L'Acquasantianni di Trivento è il teatro scelto per la finale di Molise Cup di prima categoria. Tra il Castel di Sangro Cep 1953 e il Ripalimosani. Abruzzesi che schierano potito in porta il tridente offensivo Calvitti d'Amico Pennacchioni. Ripalimosani che risponde con gli Alicicco a centrocampo e Luciano in attacco. Arbitra Saluppo di Campobasso coadiuvato da Quicci e Di Ciuccio. Partono meglio gli abruzzesi ma la prima conclusione è del Ripa. Quinto minuto punizione alta col Mancino di Dinunzio. Tredicesimo il Ripalimosani la sblocca. Lancio perfetto sul filo del fuorigioco di Ivan Gialicicco per Luciano che scatta in posizione regolare. Resista la carica di un difensore e appena dentro l'area lascia partire un gran destro che batte Votito. 1-0 Ripalimosani. Ventunesimo risponde il Castel di Sangro con questa punizione di Iacobucci, migliore dei suoi insieme a D'Amico, che finisce alta. Ventinovesimo fuori Calvitti per infortuno dentro Rispo. Grave perdita per i giallorossi. Trentatresimo ancora il 7 Abruzzi sui protagonista, ma questa volta sul suo destro trova l'attenta risposta di Colardo. L'ultima occasione del primo tempo coincide con il gol del 2-0 Ripa. Tutto nasce da azione d'angolo. La palla arriva a Marinelli che in area sarà giusta e lascia partire un tiro a giro che si insacca alle spalle del portiere per il gol del 2-0 di Marinelli. Gran gol il suo. Finisce qui il primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa. Pronti via il Castel di Sangro va vicino alla marcatura. 40 secondi. Palo scheggiato da D'Amico con questo destro dai 30 metri. Quindicesimo espulso dalla panchina e il secondo portiere del Castel di Sangro per reiterate proteste. La partita a questo punto si addommenta, complice anche il gran caldo. Per il Ripa entra Francesco Nardacchione che al 38esimo si prende la scena. Palla a piede si fa 50 metri di campo, stile Bruno Peresce nel derby. Dribla due avversari a tu per tu con Potito. Lo batte di punta. 3-0 Ripa e partita chiusa. Nel replay rivediamo il gran gol del numero 18 che si concede così dal pubblico Ripese. Chapeau. Nell'ultimo minuto di recupero da segnalare solo il tiro cross di Iacobucci che si insacca nel 7 per il 3-1 finale. Ma è troppo tardi. Dopo tre minuti di recupero Saluppo manda tutti sotto la doccia. E poi spodere la festa per il Ripa di Mosani. che si aggiudica meritatamente questa Molise Cup a cumne di una stagione positiva. Per il Castel di Sangro tanto amore in bocca. Il passato diceva Inter, oggi ripari Mosani. La realtà è questa, ma le basi ci sono e bisogna ripartire.